Gli agenti della polizia di Castrovillari, unitamente al personale della polizia locale del comune di Cassano all'Oionio, hanno notificato quattro fogli di via obbligatorio nei confronti di altrettante donne di nazionalità bulgara. Le misure di prevenzione personali prendono avvio a seguito di una pregressa attività di osservazione che ha portato ad accertare come le straniere erano dedicate alla prostituzione sulla via pubblica con offerta incondizionata a chiunque senza alcuna cautela. Si è accertato in via logica la commissione di reati contro la moralità pubblica e il buon costume in relazione all'uso da parte delle prostitute di appartarsi con clienti occasionali nei fondi contigui al luogo dove esercitavano con particolari modalità quali l'adescamento, l'ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idoni a provocare litigi, gli atti osceni, luogo pubblico e simili. L'adozione del provvedimento si è reso necessario atteso che le prostitute, come già precisato, esercitavano la loro attività di meretricio per strada lungo l'ASS 106.